Bene, bene, grazie allora al dottor Albanese, lui ha una visione che mi sembra anche giusta, brand Sicilia piuttosto che brand Catania Palermo Comiso, però attenzione, e poi sentiremo l'amico Peppe Lizio, però sì, siamo sempre lì, l'alta velocità, ma a Rausa, quei che ci pensa a Rausa? Siamo bravi a dire, colleghiamo, a mia che mi interessa, e poi però non tutti la pensano come me, che risparmio 30 minuti di ponte, quando vengono a Rausa ci vogliono tre anni col treno, però le parleremo. E ora a proposito di grandi lavori e di strutture parliamo del dissesto idrogeologico, che naturalmente con giornate così belle uno manco ci pensa, diciamo, costuca ora avessimo a pensare alla pioggia, ma invece sappiamo che generalmente dopo il caldo estivo c'è sempre la pioggia, che serve, serve certamente, ma c'è sempre il rischio che questa pioggia sia troppo forte, perché da noi ormai o fa troppo caldo o piove troppo o fa troppo freddo. Quindi questa cosa è abbastanza preoccupante e il prefetto, su indicazione della regione e altre cose, ha deciso di convocare tutti i sindaci della nostra provincia per parlare proprio di protezione civile e firmare un protocollo di intesa che possa garantire i lavori contro il dissesto idrogeologico e altre cose per l'intera provincia. Allora sentiamo le interviste.